Dal 9 al 15 luglio il muro esterno del campo sportivo di Montevago sarà il luogo dell'intervento di street art curato dall'associazione Caravanzerai per il progetto Riscossa, promosso dall'associazione Assai, Las Mani Addosso e dall'ordine Cavalieri di Montevago, con il sostegno del comune stesso. L'intervento di street art sarà realizzato dagli artisti collettivo 1, i Mangiatori di Patate, luogo comune e zeno, i quali lavoreranno in sinergia per realizzare un'opera unica, artistica, che sia al contempo la narrazione della memoria collettiva del sisma del 68. È momento di confronto e riappropriazione di un luogo fortemente identitario della comunità, a dare la prima pennellata per l'inizio dell'opera, il primo cittadino di Montevago, onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. Il progetto l'hanno voluto chiamare Riscossa e credo che sia un termine appropriato, vuole in qualche maniera intanto nel cinquantesimo del terremoto che quest'anno abbiamo ricordato e continuiamo a ricordare per tutto l'intero 2018, vuole dare al vecchio centro un'impronta di colore. Si comincerà, cominceranno oggi pomeriggio questi ragazzi, sono delle associazioni, vengono da tutta l'Italia e l'obiettivo è ricostruire scene della vecchia Montevago, fare rivivere la memoria storica di questo posto ai più giovani, utilizzando e approfittando del fatto che ci sono ancora gli anziani che sono appunto la memoria di questi luoghi. Per tutto il 2018 non è solo una questione legata al 2018, è un fatto di riscatto culturale. Da quando mi sono insediata la mia amministrazione sta cercando in tutti i modi di recuperare questa vecchia Montevago, lo abbiamo fatto in vari modi, sia inaugurando e utilizzando subito il baglio in goglia che era stato dalla precedente amministrazione, i lavori erano stati portati avanti da loro e noi lo abbiamo subito messo a fruizione del territorio, stiamo lavorando ad un progetto per il recupero della Chiesa Madre, approfittando di un bando dell'assessorato alle infrastrutture e questo momento sarà un momento in cui la gente arrivando qui non vedrà più questo grigiore di muro ma vedrà una macchia di colore e poi la sorpresa perché saranno i ragazzi insomma con la loro fantasia e la cosa bella oggi pomeriggio loro ascolteranno una delle associazioni di Montevago che è il laboratorio della memoria che ha proprio diciamo questo compito in qualche maniera di tramandare la memoria di Montevago e quindi ascolteranno loro, ascolteranno gli anziani che vorranno raccontare quella che era la vecchia Montevago e in questi 150 metri per 3 metri e rotti quindi parliamo di 450 metri di spazio ci sarà appunto lo spazio per narrare Montevago e ricordarla questa cittadina che nel 68 è stata rasa al suolo e questo terremoto è stato uno, diciamo parte dell'evento catastrofico in sé, Montevago è stata una delle cittadine distrutte completamente ma soprattutto ha pagato un tributo altissimo in termini di vite umane perché 95 montevagesi hanno perso la vita durante il terremoto